Nina Attrice e presentatrice Oh wow Oh wow È una domanda molto difficile Sarebbe la La Little Mermaid Come si dice in italiano? La Sireneca Accenderai di parla magari? Non lo so Magari Sean Penn A me piace più dramma Mi piacciono più i ruoli drammatici La commedia la trovo più difficile Mi piacerebbe molto lavorare con Con Tantissimi Da Spielberg A James Cameron Mi piacerebbe lavorare con Anche con tanti registri italiani Anche tanti registri emergenti Giovani Che ci sono Che sono molto talentuose A me piacciono le storie vere Quindi magari una storia vera Un bel documentario Qualcosa di più profonda Che una solida commedia italiana Un mega saluto Un mega bacio A tutti voi Che seguite Questi ragazzi bravissimi Di Stardust Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti